eccoci qua confesso che per me è difficile parlare poco mi accorgo dopo aver commentato due poesie precedentemente di leopardi una sui 44 45 minuti l'altra sui 50 minuti che in realtà per me è difficile proprio rientrare nei tempi che mi sono imposto vale a dire non superare appunto questi 45 50 minuti però poi accade l'indomani di una registrazione di un commento accade che mi vengono in mente tante altre idee che ho tralasciato perché la poesia di leopardi una poesia densa di significato ogni parola presuppone che ci si debba stare sopra adeguatamente per un certo periodo di tempo però ecco tutto non si può fare e devo in qualche modo trovare un compromesso tra la spendibilità di questi video caso mai trovassero qualcuno interessato ad essi e anche quelle che sono le mie esigenze e questa volta commento il passero solitario dopo il sabato del villaggio mi rivolgo a questa questo componimento perché lo stesso componimento insieme al sabato del villaggio e insieme a la sera del di di festa che sarà la poesia successiva a questa come commento intendo formerà una sorta di trilogia ora non nelle intenzioni di leopardi sia ben chiaro perché hanno tempi di composizione differenti ricordiamo che il sabato del villaggio è stato scritto nel 1829 questa poesia come vedremo ha una datazione incerta che va dal 31 al 35 mentre la prima secondo i critici la prima delle tre ad essere scritta è la sera del di di festa scritta intorno si presuppone al 1820 perché ho parlato di una trilogia perché se noi uniamo questi tre testi vediamo che hanno un tema sotteso in comune e anzi potrebbero formare una sorta di sovratesto o di macro poesia capace di rispettare le tre unità aristoteliche quella di tempo quella di luogo e quella di azione quella di tempo perché il tutto si svolge entro le 24 ore di una giornata quella di luogo perché si svolge a recanati e se per azione intendiamo il contenuto appunto c'è questo filo che lega le tre poesie magari il tema principale è qualcosa d'altro in tutte e tre però c'è un filo che le lega scendo nel particolare questo filo che le lega in realtà è il rapporto di leopardi con la festa o meglio recanati vista nei giorni di festa il sabato del villaggio ritrae il paese prima della festa invece il passaro solitario ritrae recanati nel mezzo di una festa e vediamo anche il comportamento di leopardi la poesia che faremo subito dopo la sera del dì di festa invece ha come tema proprio la fine di questa festa le considerazioni le meditazioni leopardiane proprio sulla fine della festa stavo dicendo che la datazione di questa poesia non è molto certa i critici hanno scelto come periodo quello che va dal 1831 al 1835 basando questa datazione su motivi stilistico metrici in realtà si tratta di una canzone una canzone della maturità leopardiana perché come abbiamo già visto è costruita sulla libera alternanza diversi che indica sillabi e settenari liberamente rimati proprio come il sabato del villaggio quindi è la canzone dei grandi idilli il passero solitario beh dobbiamo dire questa volta con buona pace del pascoli che leopardi è stato preciso leopardi non è che favoleggia quindi questa volta immagina un tipo di passero che vive solitario leopardi si riferisce questa volta precisamente a una specie di passero esistente il cui nome scientifico suona proprio così monticula solitario questo tema del passero ha delle ascendenze letterarie notevoli si parte da addirittura la stessa bibbia e precisamente dal libro dei salmi che noi prendiamo subito si tratta del salmo 102 che leopardi sicuramente conosceva il salmo 102 secondo la vulgata è quello della invocazione di aiuto nella prova preghiera di un afflitto che ha battuto e sfoga davanti al signore il suo lamento signore ascolta la mia preghiera e giunga fino a te il mio grido domine exaudi orazione mameam et clamor meus ad te veniat ecco prendiamo la parte che ci riguarda eh veglio insonne e mi lamento sono come un passero tutto solo sul tetto in realtà il testo latino il testo della vulgata è questo vigilavi et factus sum sicut come sicut passer solitarius in tecto ora la domanda che ci dobbiamo porre ed è lecita leopardi aveva in mente quando ha scritto il passero solitario il salmo 102 questo non lo sappiamo non lo sappiamo non lo possiamo dire possiamo solo avanzare un'ipotesi vero è che però se così fosse la cosa non ci dovrebbe stupire perché leopardi conosceva molto bene la bibbia in quanto aveva studiato su una bibbia poliglotta in più volumi e aveva studiato negli anni di studio matto e disperatissimo da autodidatta il greco e l'ebraico proprio su questi testi ma ci sono reminescenze bibliche in tutta l'opera leopardiana i libri che più colpirono leopardi e che lui forse involontariamente cita e da cui è formato sono il libro di giobbe il libro dei salmi e anche il libro del coelet il libro di giobbe per la tematica del dolore e il libro del coelet proprio per quella della vanitas vanitatum oggi per il commento del passero solitario mi riferisco a questo mio vecchio e consumato e vissuto testo della Garzanti i canti leopardiani una piccola precisazione prima di procedere Leopardi inizia questa sua celebrrima poesia con questo verso di insulavetta della torre antica andando a Recanati a volte le scolaresche sbagliano nell'identificare la torre del passero in realtà la torre del passero quella su cui noi pensiamo perché non è detto che fosse quella non è detto che Leopardi abbia visto realmente un passero sulla torre può darsi che si sia immaginato tutto ma comunque la vera torre del passero quella secondo la tradizione è quella che si trova nel chiostro di Sant'Agostino quindi dalla strada da fuori bisogna entrare nel chiostro allora si vede la torre del passero ma da fuori non si vede e anzi da fuori c'è la torre dell'Acquedotto visibilissima e molti scambiano la torre dell'Acquedotto con la torre del passero che in realtà non è secondo la tradizione è quella del chiostro di Sant'Agostino questo per precisare inizio a leggere e poi commento d'in su la vetta della torre antica passero solitario alla campagna cantando vai finché non more il giorno ed erra l'armonia per questa valle primavera d'intorno primavera d'intorno brilla nell'aria e per l'icampio esulta sic'ammirarla intenerisce il core odi greggi belar mugire ermenti gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero celfa a mille giri pur festeggiando il loro tempo migliore tu pensoso indisparte il tutto miri non compagni non voli non ti calda allegria schivi gli spassi canti e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore oimè quanto somiglia il tuo costume il mio sollazzo il riso della novella età dolce famiglia e te german di giovinezza amore sospiro acerbo dei provetti giorni non curo io non so come anzi da loro quasi fuggo lontano quasi romito e strano al mio loco natio passo del viver mio la primavera questo giorno comai cede alla sera festeggiarsi costuma al nostro borgo odi per lo sereno un suon di squilla odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa tutta vestita a festa la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra io solitario in questa rimota parte alla campagna uscendo ogni diletto e gioco indugio in altro tempo e intanto il guardo steso nell'aria prica bifere il sol che tra lontani monti dopo il giorno sereno cadendo si dilegua e par che dica che la beata gioventù vi è meno tu solingo ugellin venuto a sera del viver che daranno a te le stelle certo del tuo costume non ti dorrai che di natura è frutto ogni vostra vaghezza a me sei di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro quando muti questi occhi all'altrui core e l'orfiavoto il mondo e il di futuro del di presente più noioso e tetro che parrà di tal voglia che di quest'anni miei che di me stesso spesso ai pentirommi e spesso ma sconsolato pulgerommi indietro quindi la poesia si compone di tre strofe vedremo che la ripartizione in tre strofe ha un senso ben preciso ed è anche una ripartizione tematica precisa cominciamo con la prima D'in su la vetta della torre antica passero solitario alla campagna cantando vai finché non more il giorno cioè finché il sole non tramonta quindi leopardi attrasse è stato fatto da un passero che ha pollaiato sul punto più alto dell'antica torre di Recanati un passero appunto solitario se ne sta in disparte come vedremo e canta fino al tramonto del sole rivolto verso la campagna ed erra l'armonia per questa valle quindi dona con il suo canto l'armonia che erra si spande per tutta la vallata adesso Leopardi ci dice quando questo accade primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta sicca ammirarla intenerisce il cuore è primavera anzi la primavera stessa tutto intorno brilla nell'aria è come fosse una gemma è come rifulgesse di luce la primavera intorno all'aria e rendesse trasparenti quasi tutte le cose tutta la natura addirittura esulta attraverso i campi nei campi in modo tale che in modo tale che si che ammirarla a guardarla intenerisce il cuore sottolineo il valore di questo mirarla nella poesia leopardiana il verbo mirare ci ricordiamo di a Silvia mirava mirava il ciel sereno le vie dorate gli orti e quinci il mar da lungi e quindi il monte lingua mortal non dice quel che io sentiva in seno dicevo appunto nella poesia leopardiana il verbo mirare indica una contemplazione estatica di qualcosa in genere della bellezza della natura anche qui sì che ammirarla ammirare la primavera contemplare guardare a lungo profondamente intenerisce il cuore il cuore si commuove o di greggi belar mugiri armenti attenzione a questo chiasmo il chiasmo è l'inversione di un elemento di un parallelismo linguistico noi quando parliamo usiamo appunto il parallelismo il parallelismo abitualmente mentre il chiasmo una figura retorica confinata alla poesia quindi odi greggi belar e armenti mugire noi così parleremmo odi greggi belar nome verbo armenti mugire nome verbo invece leopardi utilizza il chiasmo che si basa appunto sull'inversione di un elemento del parallelismo vuole a dire nome verbo verbo nome non omo omo già fui primo canto dell'inferno primo canto dantesco quindi odi greggi belar mugire armenti ancora una volta come nella poesia precedente il sabato del villaggio ritorna questo odi rivolto a un tu generico che in realtà è qualsiasi persona un lettore lo spettatore il destinatario della poesia di Leopardi che viene coinvolto proprio chiamato dal tu a essere partecipe di questa realtà a essere immerso in quella primavera tuo lettore odi puoi ascoltare venendo qui in questa primavera greggi belare e armenti mugire e poi gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fa mille giri pur festeggiando il loro tempo migliore adesso attenzione perché sono introdotti tutti gli altri uccelli che per lo lì gli altri augelli tutti gli altri uccelli contenti a gara insieme fanno mille giri nel libero cielo cielo libero da nuvole è primavera quindi il cielo è sereno e tutti gli altri uccelli si divertono quasi a gareggiare a fare mille giri nel cielo tutti gli altri pur festeggiando il loro tempo migliore festeggiando appunto la stagione migliore della loro vita che è appunto la primavera qui c'è adesso un oiato profondo una netta separazione tra quello che ha appena detto e quello che adesso dirà quello che segue tu è secca questa contrapposizione gli altri augelli contenti eccetera eccetera punto e virgola tu pensoso indis parte il tutto miri non compagni non voli non ti calda allegria scrivi gli spassi canti e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore e questa è la conclusione della prima strofa quindi attenzione c'è questa grande contrapposizione tutti gli altri uccelli da una parte tu passero solitario dall'altra tu pensoso indis parte separato lontano dagli altri appartato il tutto miri guardi il tutto tutto quello che accade dall'alto di questa torre contempli guardi mentre canti la primavera le greggi gli armenti e poi guardi anche tutti gli altri tuoi simili che volteggiano nel cielo mentre tu sei appunto appartato indis parte attenzione a questo aggettivo pensoso che ha una connotazione umana se noi non conoscessimo il passero solitario è proprio questo piccolo indizio che semina Leopardi come un novello pollicino che lascia cadere un sassolino di tanto in tanto le poesie leopardiane sono proprio così ogni tanto c'è al fine dell'interpretazione finale della comprensione generale del testo un elemento che Leopardi il poeta quindi la lascia cadere proprio per farci capire tutto quanto il testo nella sua simbologia nella simbologia che usa Leopardi quindi attenzione perché questo aggettivo riguarda un essere umano pensoso quindi siamo già preparati anche se non conosciamo tutto ciò che segue il contenuto della seconda e della terza strofa siamo già in qualche modo preparati a un accostamento tra questo passero e un essere umano chi sarà l'essere umano lo intuiamo facilmente quindi tu pensoso attenzione pensoso è un aggettivo che riguarda l'uomo ma viene questa volta attribuito al passero tu pensoso indisparte il tutto miri non compagni non hai compagni non frequenti i compagni non fai voli non ti esibisci in voli come gli altri non ti importa d'allegria questa è un'espressione leopardiana non ti cal non ti importa dell'allegria di essere felice di essere allegro schivi gli spassi anzi in disparte schivi gli spassi schivi i divertimenti canti ecco anche qui come c'era questa contrapposizione tra gli altri e tu il passero solitario qui abbiamo tutta una serie di frasi negative non hai compagni non voli scrivi gli spassi non ti interessa essere felice poi abbiamo un punto e virgola e a capo questo settenario che inizia con canti in modo netto in modo secco canti e così trapassi trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore la costruzione sarebbe e così trapassi cioè vivi il più bel fiore dell'anno e della tua vita cioè in questo modo con questo costume con questa abitudine tu oltrepassi trascorri la primavera che è la stagione più bella dell'anno e anche quella della tua vita il periodo più bello della tua vita lo passi in disparte a cantare e a guardare gli altri separato lontano dagli altri veniamo alla seconda strofa che viene introdotta da un'espressione di dolore oimè quanto somiglia al tuo costume il mio dice quello che abbiamo capito oimè queste espressioni di dolore quanto somiglia al tuo costume al tuo modo di vivere il mio quindi quel pensoso che in realtà introduceva a livello subliminale un paragone un accostamento tra il passero solitario e Leopardi l'autore qui finalmente è esplicitato prende corpo oimè quanto somiglia al tuo costume il mio quindi attenzione la prima strofa è la strofa del passero solitario serve a delineare in qualche modo le caratteristiche di questo passero solitario cioè è la primavera tutti sono felici tutte le creature soprattutto gli altri uccelli ma separato da questa festa della primavera è il passero solitario la seconda strofa serve a Leopardi per far capire come lui sia estremamente simile nel carattere nel modo di vivere al passero solitario di cui ha appena parlato oimè quanto somiglia al tuo modo di vivere il mio sollazzo e riso della novella età dolce famiglia e te german di giovinezza amore sospiro acerbo dei provetti giorni non curo io non so come anzi da loro quasi fugo lontano quasi romito e strano al mio loco natio passo del viver mio la primavera attenzione qui con la costruzione quindi bisogna procedere e forse il momento un po' più complesso a livello sintattico di costruzione del periodo della poesia quindi bisogna stare attenti e prendiamo subito il verbo della principale non curo io non so come e adesso mettiamoci gli oggetti che cosa io non curo tre cose sollazzo il riso dolce famiglia della novella età e te amore terza cosa germano di giovinezza sospiro acerbo dei provetti giorni quindi ripeto la costruzione non curo io non so come sollazzo il riso dolce famiglia della novella età e te amore germano di giovinezza sospiro acerbo dei provetti giorni vediamo che cosa vuol dire Leopardi con questi versi estremamente musicali io non curo non mi curo non mi interesso questo è il significato quindi io non curo non so come o questo non so come suona come non so perché non so spiegare il perché c'è come ma equivale a perché io non curo non mi curo non curo non so perché il divertimento sollazzo e l'allegria l'essere felice contento il riso secondo elemento che sono dolce famiglia della novella età sono la dolce famiglia della giovane età della novella età di quando si è giovani e poi terzo elemento non mi curo di te amore che sei german di giovinezza cioè fratello german fratello di giovinezza sospiro acerbo rimpianto amaro aspro dei provetti giorni cioè dell'età avanzata attenzione Leopardi dice di non curare non sa spiegare nemmeno il perché tre elementi il sollazzo il riso e l'amore ovvero il divertimento l'allegria la contentezza e l'amore attenzione non solo lui non si cura di loro anzi prosegue da loro quasi fuggo lontano leopardi leopardi fugge da loro lontano cioè dal divertimento dall'allegria dalle occasioni che rendono allegri felici e divertimenti e dall'amore non solo non me ne curo ma io fuggo lontano da loro quasi romito e strano al mio loco nativo passo del viver mio la primavera quasi romito un'eremita solitario e quasi sottinteso uno straniero io stesso nel luogo in cui sono nato uno straniero in patria quasi fossi un'eremita uno straniero in patria io passo la primavera del mio vivere cioè io passo io trascorro così la giovinezza e allora attenzione qui il paragone si approfondisce perché il paragone è duplice c'è leopardi che si paragona al passero e c'è questa primavera che vive il passero che in realtà è la giovinezza del poeta e poi continua continua però sembrerebbe cambiare all'improvviso argomento quindi siamo grosso modo a metà strofa a metà della seconda strofa nella prima metà lui dice che il suo modo di vivere assomiglia a quello del passero anche lui appartato anche lui solitario ma la cosa che più sconcerta lui non si cura non sa dire come non sa dire non sa spiegare le ragioni non si cura di di divertirsi di ridere e soprattutto dell'amore di amare di innamorarsi in questo senso beh forse di innamorarsi questo no perché da buon poeta da poeta insomma che conosciamo che era leopardi e si innamorava spesso e comunque l'amore insensolato non lo coltiva anzi quasi fuggo da loro lontano e passo come un'eremita e come uno straniero in patria nel luogo in cui io stesso sono nato l'età più bella la mia giovinezza continua leopardi questo giorno com'ai c'è della sera a festeggiarsi costuma al nostro borgo e adesso sembra appunto cambiare argomento questo giorno che ormai sta quasi per finire sta ormai per arrivare la sera si costuma festeggiare al nostro borgo è tradizione che si festeggi al nostro borgo cioè oggi è un giorno di festa nel nostro paese nel nostro borgo appunto Recanati odi ritorna l'odi della prima strofa odi greggi belarmo girarmenti qui abbiamo odi per lo sereno un suon di squilla odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa quindi odi tu lettore sempre se venissi qui tu ascolteresti per lo sereno per il cielo per l'aria un suon di squilla il suono di campane lo abbiamo già incontrato nel sabato del villaggio ma il suono di campane nel sabato del villaggio era quello che annunciava che l'indomani ci sarebbe stata la festa questo suono di campane invece non fa altro che ricordare che è un giorno di festa quindi odi per lo sereno un suono di campane odi spesso un tonare di ferre e canne in realtà non essendoci mortaretti all'epoca i contadini di villa in villa di cascina in cascina in campagna si divertivano a per sottolineare appunto la festa a sparare in aria con i fucili da qui appunto questo tonare di ferre e canne che sono le canne dei fucili che rimbomba lontano di villa in villa attenzione tutta vestita festa la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra tutta vestita a festa la gioventù del loco quindi i giovani del luogo i giovani di Recanati delle campagne circostanti vestiti a festa lasciano le case e per le vie si spandono si spandono per le vie del paese e allora mirano e sono mirati cioè guardano i ragazzi guardano le ragazze e le ragazze guardano i ragazzi secondo quel costume che non conosce passare del tempo perché così si faceva ai tempi di Leopardi ancora prima così si fa oggi e si farà ancora in futuro e in corsa allegra questa gioventù di essere di guardare i propri coetanei i primi amori le ragazze che piacciono i ragazzi di cui si è innamorati attenzione ancora una volta voglio sottolineare la la contemporaneità e quindi l'attualità dei versi di Leopardi nel commentare il saper villaggio ho voluto dire quasi un assioma di fondo ho voluto dimostrare che Leopardi è il poeta preferito dai giovani i giovani si ritrono si rispecchiano in questi versi tutta vestita a festa la gioventù del loco lascia le case ancora oggi i ragazzi riempiono le strade nei giorni di festa quando c'è una fiera quando c'è ma nei piccoli paesi nelle città dove ci sono i punti di ritrovo dei giovani c'è questo gioco di sguardi tra ragazzi e ragazze che c'era ai tempi di Leopardi e ancora oggi non so fino a quanto si possa vestire a festa la gioventù dei nostri giorni perché la trovo piuttosto omologata dal punto di vista appunto del vestire altrimenti tutto è rimasto immutato dai tempi di Leopardi e continuerà come ho detto ad essere così io solitario in questa rimota parte alla campagna uscendo ogni diletto e gioco indugio in altro tempo e intanto il guardo steso nell'aria prica mi fere il sol che tra lontani monti dopo il giorno sereno cadendo si dilegua e parche dica che la beata gioventù vi è meno come nella prima strofa c'era stata la contrapposizione tra gli altri augelli contenti eccetera e tu pensoso indisparto il tutto miri quindi gli elementi della contrapposizione erano gli altri augelli e tu così nella seconda strofa noi abbiamo una contrapposizione che rispecchia quella della prima tutta vestita a festa la gioventù del loco eccetera eccetera l'abbiamo visto l'abbiamo commentato e secondo elemento della contrapposizione io solitario in questa remota parte alla campagna uscendo ogni diletto e gioco indugio in altro tempo io da solo uscendo dal paese verso la campagna in questa rimota parte la campagna uscendo mentre vado verso la fine del paese in questa rimota parte non vado al centro per le vie dove ci sono tutti i ragazzi tutti i coetanei vestiti a festa e si guardano io vado verso la fine del paese e da lì esco verso la campagna indugio in altro tempo cioè rimando al futuro in un altro tempo ogni diletto e gioco ogni forma di piacere ogni forma di divertimento io la rimando è come se il poeta dicesse oggi non ho voglia non ho voglia di essere felice non ho voglia di mescolarmi agli altri oggi me ne sto da solo appartato come il passero solitario e intanto il guardo steso nell'aria prica mi fere il sol che tra lontani monti dopo il giorno sereno eccetera eccetera attenzione perché anche qui come all'inizio della seconda strofa sollazio e riso quel periodo un pochino intricato anche qui dobbiamo fare la costruzione e intanto il soggetto è il sol mi fere mi ferisce il guardo lo sguardo steso nell'aria prica il sol che tra lontani monti dopo il giorno sereno eccetera quindi la costruzione è questa e intanto il sole mentre lui esce verso la campagna se ne vada solo a passeggiare in campagna il sole gli ferisce lo sguardo il sole mi ferisce lo sguardo questo sguardo steso perso nell'aria soleggiata quel sole che tra lontani monti dopo il giorno sereno dopo il giorno sereno si dilegua cadendo va a sparire e sembra dire che la beata gioventù vi è meno questa è la conclusione della seconda strofa una conclusione fortemente simbolica questo sole che tramonta sembra sembra contenere un messaggio per leopardi per gli altri retanatesi è solo il segno di un altro giorno che finisce per leopardi che ha rinunciato alla festa ha rinunciato alla compagnia dei coetani a guardare gli altri a provare piacere divertimento sollazzo riso amore eccetera lui uscendo verso la campagna trova che questo sole che cade tra i monti quindi tramonta contenga per lui un messaggio vale a dire che la beata gioventù questa espressione è rimasta popolare anche tra chi non conosce leopardi in Italia come una specie di espressione proverbiale appunto la beata gioventù si usa dire la beata gioventù la beata gioventù viene meno appunto il sole sembra dire affidare a leopardi un messaggio che la beata gioventù la gioventù felice in cui si è felici l'unica stagione dell'uomo l'unica età umana in cui si può essere felici viene meno ricorda che c'è un tempo c'è un tempo per tutto anche per la giovinezza la quale passa subito la quale tramonta proprio come il sole l'unica cosa che il sole risorge il giorno dopo il sole della giovinezza e leopardi ne è consapevole non sorge più veniamo alla terza e ultima strofa quella lo preannuncio che mostra le differenze anzi la differenza di fondo enorme tra leopardi e il passero quindi nella prima strofa leopardi ha parlato del passero e della sua solitudine e della contrapposizione tra il passero da una parte e tutti gli altri uccelli tutte le altre creature durante la primavera nella seconda strofa lui tiene lui il poeta tiene a sottolineare invece un legame un'affinità elettiva con questo passero solitario e come il passero lui se ne sta da solo in disparte in questa condizione necessaria e sufficiente la solitudine per cantare cioè per creare poesie quindi non conoscerà l'amore non conoscerà i divertimenti ma questa è una condizione necessaria e sufficiente come dirà in una riflessione leopardi nello zibaldone proprio per creare poesia veniamo alla terza tu solingo o gelin venuto a sera del viver che daranno a te le stelle certo del tuo costume non ti dorrai che di natura è frutto ogni vostra vaghezza io prima ho detto che il tema del passero solitario leopardi lo può aver già incontrato nella lettura dei salmi salmi quando studiava e leggeva la bibbia poliglotta però il tema del passero solitario ripreso dal famoso salmo 102 è anche l'incipit di un famoso sonetto di francesco petrarca quindi tratto dai rerum vulgarium fragmenta è il numero 226 che inizia così passer mai solitario in alcun tetto non fu quant'io né fera in alcun bosco quindi sottolineo questo indicasillabo passer mai solitario in alcun tetto è il sonetto 226 ecco francesco petrarca dichiara senza ombra di dubbio la dipendenza dal salmo 102 quasi fosse una citazione leopardi non sappiamo se si sia più o meno volutamente ispirato al salmo 102 direttamente oppure a questo sonetto del petrarca tu solingo augellin uccellino solitario venuto a sera del viver che daranno a te le stelle giunto alla fine della tua esistenza del tempo che ti concederanno le stelle certamente del tuo costume non ti dorrai certamente tu non proverai rimpianto o dolore per questo tuo modo di vivere appartato e solitario che di natura è frutto ogni vostra vaghezza perché ogni vostra inclinazione è dettata dalla natura è la natura che ve la mette nell'istinto quindi in realtà voi avete vissuto secondo natura e non avete nulla di cui lamentarvi rimproverarvi al termine della vita che vi è concessa ecco qui un'altra contrapposizione questa volta però non è tra tutti gli uccelli e il passero prima strofa tra tutti gli altri giovani e leopardi seconda strofa ma addirittura tra questa creatura con la quale aveva avvertito un'affinità elettiva cioè con il passero quindi tu uso lingua ugellina eccetera eccetera abbiamo visto questo è il primo elemento della contrapposizione adesso il secondo è leopardi a me se di vecchiezza la detestata soglia evitare non impetro quando muti questi occhi all'altrui core a me se non ottengo non impetro di evitare la detestata soglia della vecchiezza cioè se in realtà non è saudito il mio desiderio di non arrivare alla vecchiaia leopardi tra le righe ci dice che vorrebbe morire prima in sostanza nella vecchiaia nella vecchiaia quando muti questi occhi all'altrui core io tante volte ripenso a questo verso questo indecasillago mi torna in mente a volte quando guardo certi anziani e penso che leopardi nelle sue poesie abbia attraverso folgorazioni quali possono essere indecasillabi come questo abbia centrato l'umana natura abbia scandagliato l'animo umano lo abbia conosciuto e in qualche modo lo abbia inserito nelle nelle sue poesie in modo quasi castico in modo potente io penso a volte a questo indecasillabo quando muti questi occhi all'altrui core specie dicevo quando vedo alcuni anziani ed è un verso che mi fa pensare molto che traduce quel dolore che l'anziano da solo prova prova che cosa vuol dire questa espressione terribile quando ripetiamo un attimo da capo per non perdere il filo del discorso a me se non ottengo di non arrivare alla vecchiaia cioè se purtroppo arriverò a tardetà alla vecchiaia e non vorrei arrivarci quando sarò vecchio quando muti questi occhi all'altrui core cioè i miei occhi saranno muti nel cuore degli altri non diranno più niente non parleranno al cuore di coloro che mi circondano la condizione degli anziani a volte è questa il mondo contemporaneo ha fretta corre e non ha tempo per chi va piano per chi ha già vissuto e non ha più forze per correre ma ha tanta profondità tanta ricchezza ma il mondo si basa su altri valori valori diciamo fattori non sono valori tra cui la velocità non si può stare a perdere tempo e quindi questi anziani vengono relegate ai margini è proprio vero quello che dice Lopardi per alcuni che a volte gli occhi degli anziani sembrano non comunicare più nulla agli o ai cuori di coloro che circondano queste persone che rimangono quasi sole anche in mezzo alla folla e l'orfiavoto il mondo e addirittura dice Leopardi quando si è anziani non solo i propri occhi non diranno più nulla agli altri ma a loro per loro il mondo sarà vuoto il mondo sarà vuoto cioè perderà ogni interesse e il giorno futuro sarà più noioso e tetro del giorno presente quando si è giovani si pensa sempre al futuro e noi lo abbiamo visto a Silvia Silvia che si costruiva tutto un futuro roseo felice nella sua mente ecco perché cantava mentre lavorava nelle sue chetestanze invece dice Leopardi quando si è vecchi si ha una visione del futuro pesante angosciosa certo non ci analizziamo non è così ma questa è la visione leopardiana nel giorno futuro il giorno futuro sarà più noioso e tetro pesante pulumbeo pieno di tedio del giorno presente e allora per non smarrirci riprendiamo un attimo da capo per la conclusione a me se non ottengo di non arrivare alla vecchiaia quando questi occhi non diranno più niente agli altri ai cuori degli altri e per loro il mondo perderà ogni importanza ogni valore ogni interesse il mondo si svuoterà completamente completamente del suo significato e addirittura il futuro sarà più noioso e tetro il giorno che passa il giorno successivo non lo si attende più con ansia ma addirittura lo si immagina più pesante più tetro del giorno presente e allora quando accadrà tutto questo quando sarò vecchio e forse accadrà tutto questo che parrà di tal voglia che cosa penserò di questa mia voglia di starmene da solo appartato di non frequentare gli altri che di questi anni miei passati così nella solitudine che di me stesso che cosa penserò di me stesso la conclusione è una sola dice Leopardi ai mi pentirò io mi pentirò già lo so se arrivo alla tardetà quando accadono tutte le cose che abbiamo detto allora io mi pentirò di non aver vissuto di non aver ricercato l'allegria nell'età dell'allegria l'amore nell'età appunto dell'amore e allora spesso ma sconsolato senza consolazione volgerò mi indietro cioè mi volgerò indietro mi volgerò a guardare il passato che ho perduto e che non tornerà più direi che può bastare perché abbiamo raggiunto l'ora grazie